Già, sei venuta a fare quel studio? A togliarmi i tracisti? Come va, ciccia? Ti fa suonire le rette Va bene? Sì, sì, tutto bene Io non so perché, i miei pazienti non sentono neanche la mia estetica locale Eppure non me la sto facendo sui dita, vi giuro Come va? Non sento la moglie Avete visto? Sì Perché sono tutti in guarda un grande paziente Eppure non viaggare Eppure non viaggare Eppure non viaggare Eppure non viaggare La faccia è la knees Come va, ciccia? Eisla di Sanvo Eppure non viaggare Eppure non viaggare Com'è va? Non sento l'obbligo. Avivis? Che sono tutti i numeri, grazie. 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 Allora ragazzi adesso residua questo piccolo forellino che diremo alla paziente poi come trattare, come vedete non abbiamo ottenuto i capelli, non è uscito una goccia di sangue, è andato tutto alla perfezione. Adesso continuiamo, grazie anche all'estrattore ufficiale, il dottor Fabio Lagroscino che mi ha aiutato con questo patto del rie di stoci con questa volta, comunque questa è la cisti, la capsula e sono contenta, conti grazie.